Tu sei Rob. Chi ti ha messo questo nome? Qualche idiota balbuzzietta? Vino! Vostra maestà, non c'è più vino. Andro, non andro. Andro, non andro. Andro, non andro. Andro, non andro. Se un uomo poserà la mano su una delle mie moglie, gli canta uomini soli. Cosa stai facendo? Qua arrivano le ruspe! E di quanto denaro dispone, giovanotto? Zero. Vandonie! Perpetuare il mane per garantire il bene. Sì, confesso. La responsabilità diretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984. Mia adorata moglie. Sono un uomo cavallo. Proclamami il cavallo e consegna le vostre palle. Non serve una battaglia. Hai ragione, non serve una battaglia. Non serve una battaglia. Serve del legname. Ho 6.000 uvalle. I padroni, per Mirin, non vogliono il successo. E' una battaglia! Mi hanno rompato le palle, i padroni! Avrebbe bruciato tutti i suoi cittadini. Quelli leali e i traditori. Quelli leali e i traditori. Quelli leali e i tori. Quelli leali e i tori. Traditori. Traditori. Basta! Basta! Pietà. Chiedo, pietà. Cosa fai tutta la notte? Coca e mignote. Ancora del vino, maestà? Sì, ma com'hai fatto? Mi leggi nel pensiero? Non c'è più vino. Affanculo! Tu ammiravi quel coglione di Stannis e io ammiravo quel coglione di Stannis. Manson ammireva quel coglione di Stannis e Stannis e pisciava le persone nella testa. Ram si gioca con le trappole. Lasciamo che spondi una sua trappola. Stiamo Stannisando le trincee lungo i nostri Stannis. Non potranno stannirci come Stannis a Stannis a voi. Manovra a Tenaglia. Manovra a Tenaglia. Non riusciranno a colperci sui fianchi. L'ultima volta ci siamo visti a grande inverno. Grande uccello. Che c'è che non va in te? Sono fatto. Ragionevole. Figliolo, ti piace Giorgio? Vai! No, devi correre! Vi racconta una storia vera. 500 anni fa Portuguesi e spagnoli vennero qui per cercare di reclamare il vino! Vostra maestà, non c'è più vino. Ne sei sicuro? Io sono l'uomo che ha ucciso Gas Fring. Gli ha sfracellato la testa con un banco, Matt. Per gli dèi ero forte a quei tempi. Uccideremo i nostri uomini. Non serviamo a niente. E' il momento. Vai! Signore e signori, facciamo un grande applauso a Matteo Salvini! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì! Se entri in casa mia in piedi, sa che vuoi uscirne bene! Non ti ho appena un fuoco! Mi vuoi niente! Stai bene? Sì, sto bene. È meglio se entrambe le parti sanno con chi hanno a che fare. Noi ci conosciamo. Che cosa dicevo? Fuck this! Volevi un combattimento uomo a uomo, giusto? Grazie a tutti, Kaiser! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!